Qui con Andrea Protelli al termine della vittoria per 1-0 con l'Avadese. Andrea, alla fine del tuo gol e il risultato decisivo per la vittoria? Una cosa meravigliosa, davvero. Non ho parole per questi ragazzi, per questa squadra. Sono davvero felicissimo. È stata durissima contro una squadra forte come l'Avadese, con degli attaccanti centrocampisti, difensori fortissimi. È stata una partita combattuta come ci aspettavamo, ma noi abbiamo dato tutto e penso che anche abbiamo meritato di vincere. Il Sassello ha perso contro Santa Cecilia e voi avete battuto l'Avadese. Siete sempre più diretti verso la vittoria del campionato? Vero, verissimo, ma è troppo lunga. Troppo, troppo. Finché la matematica non ci dà la ragione, per me non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo continuare così, umili, fare il nostro gioco e non pensare assolutamente agli altri. Cosa servirà per giungere primi al termine della stagione? Semplicemente, secondo me, continuare così, con questa voglia, con questa determinazione, con i nostri principi di gioco e... Umiltà, tanta umiltà e sono sicuro che ce la faremo. Grazie mille. Grazie.